Le giornate sono spesso piene di impegni, discadenze da rispettare, cose da fare e non sempre si può tenere tutto sotto controllo. A parte i miei capelli, da quando ho scelto di fare in salone il trattamento Made in Italy Keratin Plus Mooting, i miei capelli sono lisci e disciplinati in ogni occasione. In pochi e semplici gesti, un risultato incredibile. Capelli morbidi, lisci e facili da gestire. Keratin Plus Mooting System, by Jean Paul Minet, il trattamento che mi ha cambiato la vita. Cosa aspetti? Prenota ora il trattamento in salone, subito per te uno sconto del 50% sull'acquisto del sistema di mantenimento Keratin Plus Empower.